Maria Cappellino Revisore Maria Cappellino Revisore Maria Cappellino Revisore Ci sono molte definizioni che cercano di riassumere quale sia il ruolo di un designer all'interno di un sistema di produzione industriale, ma il ruolo del designer è di per sé mutevole, cambia con l'avanzare dei tempi e delle tecnologie, come in realtà cambia anche l'industria. Una cosa che è rimasta costante negli anni, nella mia esperienza di designer, è che il nostro ruolo è come quello di un ingranaggio all'interno di un sistema complesso, fatto di tante figure, tutte fondamentali, che insieme partecipano alla sedimentazione di sapere, per creare oggetti e prodotti sempre più sofisticati. Sedimentazione è una parola molto importante, una parola che ci fa pensare alla cultura come una specie di pulviscolo, che accumulandosi crea un terreno, un terreno che all'inizio è molto fragile, ma che poi diventa via via, passare del tempo e accumularsi dell'esperienza, sempre più solido, per creare una specie di strada per i progettisti del futuro. Effettivamente la sedimentazione del sapere è una cosa importante perché l'uomo, diciamo, che prende un po' dalla natura, è una cosa che ci viene dalla natura, lavorare insieme. Guardiamo a sinistra l'immagine delle formiche. Le formiche cosa fanno? Va avanti la prima formica e cerca di dare dell'informazione alle formiche che vengono dietro, dicendogli, guarda, qui c'è del cibo, qui c'è un pericolo. Invece, se guardiamo l'immagine di destra, è molto interessante perché vediamo come in realtà, con zoom differenti, abbiamo delle immagini molto simili. Sono degli aerei, è un'immagine presa da flight radar, e vediamo come i piloti che stanno davanti suggeriscono ai piloti che vengono dietro qual è il percorso migliore, se c'è una tempesta, se ci stanno dei problemi possibili. Quindi questa cosa è molto interessante perché ci fa capire che anche utilizzando delle tecnologie noi comunque rimaniamo attaccati alla natura. Quest'immagine è molto forte da questo punto di vista. Effettivamente l'uomo ha sempre progettato in comune, ha progettato in compagnia, creando dei gruppi di lavoro. Questa è un'immagine del Neolitico, un'immagine dipinta sulla pietra nel Sara Centrale, mostra come già nelle tribù lavorassero insieme per creare delle armi, già a quei tempi per la caccia. Chiaramente a quei tempi gli oggetti erano oggetti necessari alla vita, aiutavano a sopravvivere, alla sopravvivenza. Immagino già le persone a quel tempo che si davano dei suggerimenti, ok, utilizziamo un legno più flessibile per l'arco, un legno più rigido per le frecce. E queste idee via via si sedimentano e creano degli oggetti che arrivano a noi sempre più perfezionati, degli strumenti che oggi utilizziamo in maniera totalmente diversa, ma che in realtà partono da lontano. Questo che vedete è un prodotto interessante. Io e mia moglie abbiamo avuto da poco un bambino e abbiamo casa piena di biberon. Questo è un biberon del 1200 a.C. e vedete come già a quei tempi c'era una ricerca non soltanto funzionale, ma anche formale, cioè si cercava di dare al bambino già una forma che lo attraesse, che creasse con l'oggetto un feeling, oltre che una funzione. Questi oggetti qua, di questi oggetti, se ne trovano già dal Neolitico, quindi già dal 5-6.000 a.C. e si pensa siano addirittura serviti a far aumentare la popolazione a quei tempi, a creare un vero e proprio boom di nascite e di sopravvivenza, soprattutto perché già utilizzavano dei latti animali, oltre a quelli umani. E questa cosa è molto interessante perché ci fa capire come questo progresso da un prodotto come questo, che arriva fino a noi, è una sorta di progettazione continua. Cioè noi non progettiamo soltanto in gruppo oggi, ma progettiamo in gruppo in una sorta di lasso temporale dilungato, che si estende fino a noi. E questa è una cosa interessante perché ci fa capire che non è che oggi noi facciamo degli oggetti, ma in realtà è l'uomo che fa oggetti, il gruppo di persone non è il gruppo di oggi, è la storia che crea gli oggetti. Questo vaso ci mostra lo stesso principio. Già vediamo, questo è un vaso del 6000 a.C., già vediamo un manico, cioè quindi già utilizzavano degli strumenti in maniera efficiente, ok, se aggiungiamo il manico porterò meglio questo vaso, e c'erano già degli elementi ornamentali, come questi segni che vediamo, queste decorazioni che vediamo all'esterno, che aiutavano comunque ad inserire l'oggetto in maniera più decorativa all'interno dell'ambiente domestico a quei tempi. Arriviamo a oggi. Questo è un prodotto che abbiamo disegnato nel 2020. Vedete come la funzione è la stessa. Che cosa cambia in questo prodotto? Cambiano le tecnologie. E qua c'è di produzione per produrre un oggetto su scala industriale per milioni di persone. Questo è un oggetto prodotto in milioni di pezzi. All'esterno è fatto in plastica totalmente riciclata, all'interno invece la parte bianca che vedete è fatta in plastica vergine. A questo progetto, in questo caso, collaborano tante figure, ingegneri meccanici, esperti di materiali, esperti di produzione. Qui c'è anche un video. Questo video ci mostra come oggi è la progettazione di gruppo, la progettazione fatta insieme da tante persone. Non partecipi più soltanto la vita umana, l'umano, ma partecipi anche la macchina, il robot e l'intelligenza artificiale. Cioè, quindi, quello che prima riuscivamo a fare soltanto a mano, oggi riusciamo a fare in maniera molto più veloce in macchina e tramite computer, quindi l'intelligenza artificiale, riusciamo ad arrivare mentalmente dove non riuscivamo. E poi togliamo una parte di lavoro molto alienante alla forza umana, che questa è una cosa molto interessante. In futuro, probabilmente, sarà molto più verso questa direzione, dove noi progetteremo sempre più insieme alle macchine l'intelligenza artificiale per creare prodotti sempre più sofisticati. È una specie di convergenza. Cioè, la cosa importante è che quando si arriva a fare questi prodotti si sente proprio che c'è una convergenza di saperi, dove la tecnologia e l'innovazione arrivano ad un certo punto di fusione che fanno arrivare alla produzione di alcuni prodotti. Questa cosa si sente moltissimo nell'elettronica. Guardate questa immagine, che è un'immagine che mostra una radio degli anni 40. A quei tempi la radio era l'unico media all'interno della casa. Era una specie di totem, stava lì, era il centro della casa, diffondeva idee, diffondeva parole, musica. Questo è un prodotto invece che abbiamo fatto nel 2014. Guardate, è uno speaker bluetooth che addirittura tu puoi indossare. L'evoluzione tecnologica ci ha permesso di creare un oggetto piccolissimo che tu porti con te, la tua musica ovunque sempre con te. questo progetto è stato fatto, progettato da noi in Italia, per un'azienda di Parigi con una sede in Cina dove c'era l'industrializzazione e la produzione. Quindi tutto era stato fatto tramite email, un mare di email, prototipi scambiati tramite corriere. Oggi è quello che facciamo quotidianamente. Chiaramente questa cosa fu un lavoro importante perché effettivamente io non avevo mai visto gli ingegneri che stavano in Cina dal vivo. Questo ci fa capire come oggi quella tribù che abbiamo visto all'inizio sia diventata una tribù senza più limite spaziale. È una tribù che ha come unico limite l'etere. Cioè, siamo tutti... È una tribù che è diventata davvero globale. Il design, abbiamo detto il lavoro di squadra, ma come funziona? un progetto che facciamo con un'azienda. Solitamente noi riceviamo dall'azienda un brief. Il brief è fatto dalla ricerca e sviluppo che già un team di persone cercano quali saranno i prossimi progetti dell'azienda facendo delle analisi di mercato, cercando di capire e intuire quali saranno i prodotti, i bisogni del futuro. Noi iniziamo in studio già un altro team di persone ad analizzare questo brief e a buttare giù delle idee facendo delle ricerche approfondite, facendo viaggi, cercando di capire qual è la direzione giusta da prendere. Facciamo degli schizzi che iniziano a dare un significato al prodotto, a creare dei dettagli meccanici, dei dettagli di materiale. Iniziamo a mettere giù anche dei concetti su modelli, cerchiamo di capire tramite il modello se questo prodotto funziona. Arrivando a questo, questo ad esempio è un modellino di un letto che abbiamo fatto. Facciamo anche dei disegni tridimensionali a computer aiutandoci con l'intelligenza appunto artificiale. Se questa cosa ci piace, funziona, diamo tutto all'azienda. Se l'azienda dice che quella cosa va bene e qui entra in gioco ancora un gruppo più grande di persone si passa a una prototipazione più grande cioè a scala 1 a 1 e entrano altre figure la ricerca e sviluppo dell'azienda i prototipisti gli ingegneri meccanici tutti insieme cerchiamo di mettere a punto questo prodotto seguendo le linee guida che c'eravamo prefissati cercando il comfort cercando i materiali più giusti gli abbinamenti più giusti e poi per arrivare a questo che è il prodotto finito questo prodotto che vedete è un letto è stato fotografato da un fotografo da un team di esperti grafici è stato impaginato e sono stati creati dei cataloghi è andato a finire in fiera e poi nei negozi capite che dall'inizio alla fine di questo processo ci sono decine di persone che hanno lavorato al prodotto e questa cosa è molto interessante per capire come oggi funziona un prodotto industriale che trovate nei negozi dinamica dei sedimenti se esiste come abbiamo detto all'inizio una sedimentazione del sapere esiste anche una dinamica di questa sedimentazione ritorniamo a un confronto con la natura pensiamo al fiume il fiume è una cosa che parte dall'inizio alla fine e crea una sedimentazione lungo il suo percorso l'acqua porta dei sedimenti creando la natura stessa del fiume la fauna e la flora del fiume crea il letto del fiume se noi interrompiamo il corso d'acqua ad un certo punto artificialmente a valle di quel corso avremo un cambiamento incredibile peggiorativo della qualità delle acque della qualità della fauna e della flora del fiume e questo è una cosa che durerà finché questa interruzione rimarrà stabile questa cosa per dirvi che come la sedimentazione naturale la sedimentazione del sapere funziona allo stesso modo se noi oggi creiamo un'interruzione o ci sono degli errori in quello che facciamo che progettiamo questi errori si ripercuotono nel futuro si ripercuoteranno nel futuro cioè in pratica quello che voglio dirvi è che non esiste il tratto di un fiume esiste il fiume e non esiste il fiume ma esiste l'oceano è una cosa importante questa per dire che bisogna progettare insieme per un futuro migliore grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti